Iniziamo subito con le nostre informazioni utili per voi che ci seguite al mattino e allora il meteo con Ida Maiello collegata per noi dal centro sud dell'Aquila. Buongiorno e ben ritrovati. La graduale discesa di una saccatura dal centro nord Europa con inseno aria fredda di origine artica sarà a causa oggi e nel weekend di un inasprimento delle condizioni meteorologiche su buona parte della penisola. La giornata odierna sull'Abruzzo vedrà cieli novolosi su tutto il territorio con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale che si concentreranno soprattutto sui settori occidentali al mattino mentre dal pomeriggio riguarderanno l'intera regione. La neve sarà più probabile tra pomeriggio e sera a quote che si attesteranno al di sotto dei 1800 metri. Temperature pressoché stazionarie, ventilazione moderata dai quadranti occidentali nell'entroterra di direzione variabile sui settori costieri. Sabato avremo una prima parte di giornata discreta senza fenomeni di rilievo mentre dal pomeriggio il sopraggiungere di nuvolosità da ovest sarà responsabile di precipitazioni sparse localmente a carattere nevoso sui comparti settentrionali della regione anche a quote collinari. Le temperature faranno registrare un sensibile calo sia nei valori minimi che in quelli massimi mentre i venti ispireranno prevalentemente deboli moderati dai quadranti settentrionali. Domenica giornata con poche precipitazioni ma molto fredda. Anche per oggi dal CETEMS è tutto, vi auguriamo un buon weekend.